Oggi parliamo di una eventuale possibile prolunga per le ricariche ai supercharger poi riapre la fabbrica di Berlino, un cambiamento dei prezzi sul quale facciamo un paio di considerazioni in Canada e poi una novità per quanto riguarda l'eventuale sostituzione della batteria di un determinato modello A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla Oggi cominciamo parlando delle ricariche ai supercharger e in particolare delle ricariche per auto non Tesla perché vi ricordo che ormai un paio d'anni fa Tesla ha cominciato prima in Europa e poi successivamente negli Stati Uniti ad aprire i propri supercharger anche ad auto non Tesla Qual è il problema? Che non tutte le auto hanno la porta di ricarica posizionata come le auto Tesla e quindi comunque per accedere al cavo, per arrivare al cavo che non è particolarmente lungo alcune auto devono parcheggiare in maniera creativa occupando a volte anche due stalli anziché uno I supercharger V4, quelli tutti bianchi, un po' più grossi che vi ho fatto vedere in un video per esempio a Roma risolvono il problema perché sono materialmente studiati per caricare auto diverse Infatti sono posizionati alcuni, almeno quelli nuovi, in maniera diversa al centro della piazzola e soprattutto hanno il cavo più lungo in modo tale da permettere a tutte le auto in linea di massima di poter caricare Ma cosa succede per i vecchi V3? Tesla, quantomeno negli Stati Uniti, sta lavorando a una sorta di prolunga Così scrivono, che però sarebbe in vendita per chi la vuole per caricare ai supercharger Sarà interessante vedere che cosa tireranno fuori perché comunque parliamo di alte potenze quindi immagino che comunque anche nella prolunga ci sarà un qualche sistema di blocco Non credo che una cosa del genere possa essere legale in Europa Ma non sono un tecnico e quindi staremo a vedere se anche per l'Europa ci sarà questa possibilità Qualche giorno fa vi avevo parlato di quel attacco terroristico al traliccio a uno dei tralicci che portava corrente tra l'altro anche alla fabbrica di Berlino oltre a una marea di case Insomma sembra che il problema si stia piano piano risolvendo e in settimana dovrebbe riaprire la fabbrica Beh, è sicuramente una buona notizia Nel frattempo, proprio un paio di giorni fa alla fabbrica è stata tenuta una sorta di festa con tutti i dipendenti per mostrare davvero la compattezza comunque dei lavoratori della fabbrica di Berlino e non so se vi è capitato di vedere i video e le immagini è stato secondo me veramente un bel evento Ora parliamo dell'annuncio di un cambio di prezzo in particolare in Canada di un aumento per quanto riguarda Model Y di 1000 dollari canadesi e un annuncio appunto che indica che l'aumento di prezzo avverrà dal 15 marzo in poi Ora questa è ovviamente una tecnica che può usare Tesla per esempio per far comprare l'auto agli indecisi quindi farla ritirare prima di fine mese però è uno spunto di riflessione che uso spesso quando ci sono questi cambiamenti di prezzo riguardo anche alla situazione che abbiamo per esempio in Italia perché a oggi noi conosciamo i prezzi e conosciamo la situazione e in particolar modo se parliamo di Model Y sappiamo che la versione a trazione posteriore è l'unica non da molto tempo tra l'altro che può accedere agli incentivi o almeno potrà accedervi quando finalmente verranno definiti quelli del 2024 ma attenzione perché per coloro che magari aspettano un aggiornamento che non si sa quando arriverà e non si sa a che prezzo attenzione che il prezzo potrebbe salire potrebbe non essere più questo oppure potrebbero finire gli incentivi quindi prendete sempre queste notizie come spunto di riflessione per valutare la vostra situazione e se quindi vale la pena magari aspettare oppure prendere oggi quello che c'è e godersi la propria auto ora invece parliamo di batterie e in particolar modo il caso che può capitare che una batteria abbia un difetto e sia da cambiare devo dire che comunque soprattutto con Model 3 e Model Y è un caso più unico che raro mentre con le prime Model S era un intervento non voglio dire comune, ci mancherebbe, non ho i dati però era un intervento che si sentiva un po' più spesso comunque perché ve ne parlo? perché vi ricordo che le prime Model 3 a trazione posteriore avevano le batterie Panasonic da 50 kWh con chimica NCA prodotte in Nevada alla Gigafactory Nevada in particolare io quando abitavo negli Stati Uniti avevo una Model 3 a trazione posteriore del 2021 con questo tipo di batterie tra l'altro negli Stati Uniti hanno cominciato a montare le LFP quindi con la chimica, litio, ferro, fosfato un po' più tardi rispetto all'Europa perché vi sto parlando di batterie? perché Tesla ha rilasciato una lettera nel caso in cui ci fosse questo tipo di intervento quindi ai proprietari di Model 3 con batterie Panasonic che d'ora in poi non sarà più possibile effettuare la sostituzione con le batterie originarie quindi le Panasonic da 50 kWh ma cosa dice nella lettera? che verranno installate le LFP attuali quindi da 60 kWh quindi avremo ovviamente una maggiore autonomia il vantaggio che le LFP hanno comunque più cicli di ricarica da sfruttare anche le altre ne hanno molti parliamo veramente di centinaia di migliaia di chilometri però in generale l'utilizzo della LFP è leggermente diverso Tesla però giustamente parla anche degli svantaggi quindi maggiore peso uno 0-100 kWh leggermente maggiore quindi circa mezzo secondo in più però con un aggiornamento anche delle sospensioni quindi che cosa dice questa lettera? in caso di sostituzione della batteria non sarà più possibile avere la vecchia Panasonic ma si avrà una nuova LFP che viene montata tra l'altro anche adesso sia su Model Y RVD che su Model 3 Highland RVD bene questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao